Un saluto a tutti gli amici di Milanello, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ma un saluto anche a tutti gli amici della pagina Facebook AC Milan 1899 o meglio il gruppo Facebook dedicato a tutti i tifosi del Milan al quale vi invito a iscrivervi per non perderevi nulla del Milan anche sui social, anche su Facebook ci sono ovviamente moderatori per controllare anche i contenuti è un gruppo molto interessante, mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi anche su Youtube a Milanello io oggi riflettevo, visto che c'è molto da riflettere in casa, io in questo momento mi trovo sul terrazzo e voglio fare anche voi un questionario voglio chiedervi chi sono stati i migliori e i peggiori di questa stagione voglio un migliore e un peggiore nei commenti escludendo ovviamente i vari Suso Piontech, quelli che sono partiti è difficile trovare il migliore però nonostante in ultime partite non stia facendo benissimo io dico Teo Hernandez, pollice verde Teo Hernandez, pollice rosso invece per Paquetà che secondo me è la grande delusione di questa stagione visto che ci si aspettava il saluto di qualità dopo l'anno scorso invece quest'anno c'è stato un ulteriore passo indietro e per me rappresenta la grande delusione, ce ne sarebbero anche altri però ecco, promosso Teo Hernandez, bocciato, bocciatissimo Paquetà sul quale comunque bisognerà riflettere anche in ottica futura ci sarebbe anche Ibra, però ecco, io vedo più come sorpresa positiva appunto Teo Hernandez scrivete voi nei vostri commenti il migliore e il peggiore voglio soltanto un nome, mi raccomando iscrivetevi al canale con aggiornamenti live su tutto quello che accade intorno al mondo Milan con tanti punti di vista, il mio, quello di altri opinionisti e tifosi del Milan opinionisti di QSVS e non solo anche tante notizie di calcio mercato con le nostre rubriche un saluto a tutti e un saluto, ripeto, anche alla pagina AC10001899 su Facebook ciao